Sì, oggi è partito il cantiere, come vedete alle mie spalle hanno già posizionato delle ruspe. Ovviamente le prime lavorazioni considerano nel recintare il cantiere, sarà una recinzione che partirà praticamente da Viale Isonzo e arriverà fino al viale che collega lo stadio con l'Esedra, viale escluso. Questa sarà la fase 1 che ovviamente andrà avanti fino a tutto quest'anno, ovviamente parte l'anno prossimo, nella fase 2 che però sarà l'anno prossimo si occuperà anche il viale alberato che collega lo stadio con l'Esedra ma anche uno spazio di verde di fronte all'Esedra. Quindi le prime lavorazioni sostanzialmente consisteranno nel recintare tutta l'area, poi ovviamente c'è anche un momento di indagini belliche che sono necessarie ovviamente per poter proseguire con le lavorazioni. È un'area di cantiere decisamente importante, come avete alle mie spalle abbastanza ampia ma ovviamente funzionale a realizzare un progetto veramente ambizioso e veramente straordinario.